A Termoli manca quello che manca in tutta Italia, un governo stabile, un'organizzazione collaborativa, una semplicità nelle cose da fare, con molta umiltà perché manca tutto, manca assolutamente il turismo che non è organizzato bene, la parte da viabilità che è sempre in traccia continuamente, le macchine, non ci sono corsie preferenziali, non ci sono pulizie di strade, non ci sono strade agibili, le strade sono piene di buche e sono continuamente i cittadini a rischio. Di servizi non ce ne sono, i commercianti sono tutti disabilitati al servizio perché comunque il corso non ha le macchine il pomeriggio, ci sono tante attività che il pomeriggio soffrono di questo, ci sono un mare di cose di cui parlare, un mare di cose da elaborare e semplicemente da organizzare. La stagione estiva sta arrivando, il lungomare è rotto, ci sono tantissime cose, purtroppo la crisi genera anche tanta tristezza, genera depressione, ma non è questo il momento né della tristezza né della depressione, è il momento di rimboccarsi le maniche e di lavorare tutti insieme con molta, ripeto, umiltà e serietà.